Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video, siamo tornati su Kingdom Eccoci qua, pronti per giocare, tornare a espanderci, in questo caso però a destra Per chi non l'ha visto nello scorso video abbiamo migliorato il Tempio Massonico Abbiamo in pietra, abbiamo anche migliorato le nostre difese Non ci rimane che costruire il privatore e il muro Quando abbiamo fatto questo, ancora andrà tutto bene Abbattiamo questi due alberi per avere più, come dire, per avere il controllo di questa zona di terra per costruire il muro Ma dove si può fare? Anche questo Dimmi che non si può fare perché proprio è indecente sta cosa Ecco il muro, benissimo Ecco il muro, benissimo Ecco il muro, benissimo E l'abbiamo anche migliorato Ok, molto, molto, molto bene Ragazzi le cose stanno andando alla grandissima Sì ma quanti arcini ci sono qua Però se tornassero tutti Mi farebbero un piccolo piacere Oh no La luna rossa Oh cazzo Ecco questo È un problema Non siamo pronti per un'attacca, un'orda grande Secondo me Quindi Sperando che qui non ci attacchi nessuno Ma Non penso Vabbè qua intanto la torre di Mi diremo uno Basta Devo andare a destra Perché là c'è un'attaccato Prima di andarci proprio piglio le monete E miglioriamo anche in là La torre, le mure Tutto quel desiderio Oh anche questo Mi ha girato al massimo Che bello Che bello Nemura al massimo Perfetto 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 Sono molto contento di questo Nemura mi rendo massimo Ai nemici che ci sono Ma Proprio Non riusciranno mai a sfondare Qua abbiamo una gata culta Abbiamo una torre che sta fuori Cioè A posto Allora Abbiamo proprio Nessun problema Adesso Il migliorato Poi ci vorrà Ci vorranno un po' di monete Queste qua non basteranno Per una Eh Capito Per una Come l'ho detto Veloce Veloce Mamma mia Guardate che spettacolo Qui non passa nessuno Qui non passerà nessuno 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 Voglio un attacco dal nemico Perché voglio provare Queste nuove Queste nuove Nura Che abbiamo fatto E quindi Ci devo provare Ci devo provare Voglio vedere La potenza Che hanno adesso I miei alciri Madonna Madonna Che spettacolo Sì signore Penso che Penso che vediamo Ormai Sappiamo già I risultati Eccellenti Ottimo Veramente Ottimo Qui fosse un po' di meno Perché Abbiamo le mura Il miglio Vedete i contadini Ci ho dato le mura Eh Le mura Sì vabbè Sì vabbè Possiamo dire anche così Visto che adesso Ne miglioreremo Puggerando le mura Molto Molto Importante Dovevo dire anche Le mura Che stanno dentro Però Potremmo anche Non farle Cioè Non Non ne vede adesso Il motivo Quando avrò Ancora più monete Lo farò Lo farò Perché Perché sì Cioè Il dialtro È che mi piace vedere Che sia tutto Upgridato al massimo Ad esempio Questa Questa Con solo Due alcieri La cosa Non mi piace E chi voglia Che sia completa Però Il tempo C'è sempre Quindi Vedete Questo punto Che è Che È vero Che non Non mi date più Molete Avete Cacciato Ogni Fottuta Cosa Che ci stava Questa 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 Ah Ci sono I conini Eh Va bene Qui Avrò bisogno Gli altri componenti Più 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 Schiavi E Più Monete Con Tra Che Che Ho Che Schallavate Che Abbiamo un buon regno, abbiamo delle difese anche buone, non serve per ora che migliori tutto, subito, basta che migliori solamente la frontiera, ecco, ecco altre monete, sta nevando un abitante che diventerà un contadino. E quindi altre monete, che bello, le mie monete, perfetto, ecco la falce, mando un immartello, eh, 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 me necce, scherzate, me ne, ecco qua, abbiamo, creato una linea di difesa persistente, permanente e potente. Ottimo, non chiedevo di meno, soprattutto che adesso i nemici arriveranno in massa. Perfetto, perfetto, adesso sì che possiamo migliorare il resto. Sempre per una moneta, mamma mia, ma c'ho la sfiga io, che, madonna. Come sta andando qua? Bene ragazzi, il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto, abbiamo fatto dei passi da gigante, ci stiamo difendendo in maniera eccellente. Se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace, commentate e noi ci vediamo sul prossimo video. Ciao ragazzi.